No si sente niente? Non si sente niente? Non si sente niente? Non si sente niente? Questa antica arte marziale che si rifà a una storia millenaria in Cina si basa appunto sull'ispirare ogni movimento, ogni passaggio, ogni passo, ogni tecnica a questo equilibrio. Non si sente niente? 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.